Allora, prendiamo l'elemento di necessità, sia per la flessibilità pesante, sia per il cambio al mercato del lavoro. Con Industria 4.0 sarà ancora più un mercato, perché ci saranno dei lavoratori che escono dal mercato del lavoro, non riescono subito a rientrare, alcuni non rientreranno mai. Quindi il tema di come noi sosteniamo o i passaggi da un lavoro a un altro, insieme alla formazione, a tutto quello che non è stato fatto, che poi potrei dire, e come sosteniamo chi per il cambio dell'economia, del sistema industriale, rimarrà necessariamente fuori, esiste. Esiste e altri paesi se lo stanno ponendo, altri paesi l'hanno risolto con soluzioni simili. Quindi uno studio è anche nella Silicon Valley, dove si sa che Industria 4.0 è molto avanzata, e quindi ci si chiede come creare degli ammortizzatori sociali prolungati, che è una cosa simile a questa. Dov'è il difetto di questa proposta? La prima cosa è che questa proposta, ovviamente strizzalotta a un elettorato, specialmente a un elettorato del Sud. Non è un caso che dei dati danno questa proposta come molto penetrante al Sud, dove c'è un elemento di disoccupazione devastante. Non è sostenibile per come la propongono, e non a caso loro se non sono resi conto, perché poi non è che la possa raccontare tutta finta, perché non è sostenibile perché costerebbe delle cifre che non sono sostenibili per il bilancio dello Stato. Infatti loro a un certo punto hanno detto, benissimo, sfondiamo il 3%. Noi siamo per sfondare il 3%. Ora, dov'è il punto? Se loro facessero questo, e è intervenuto Moscomisi e altri, è evidente che a quei giovani, invece di fargli una cortesia, li condannerebbero per sempre. Perché evidentemente quel debito pubblico pro capite che in Italia, mio figlio, mio figlio ha 35.000 euro di debito pubblico pro capite, in Spagna è 29.000. Quindi loro propongono politiche per attrarre consenso senza porsi nessun tema di lungimiranza, perché, forse anche perché ci stanno una volta sola, perché magari vanno in Parlamento e tornano via dopo un attimo, e arrivo alle parlamentari, me lo faccio a dire questa cosa. Io sono d'accordo che il sistema del tutto non è intelligenza artificiale, non è nemmeno intelligenza chi ha messo in piedi Rousseau, questo evidentemente ha dei difetti enormi. Io vorrei però osservare la questione anche dal punto di vista della selezione della classe dirigente. La scelta del parlamentare, lo fa il voto, il voto del cittadino e va nell'urla scelta del parlamentare. L'operazione precedente di cui stiamo parlando e ne accennava anche Comandini, è selezione della classe dirigente. Io a questo ci tengo, io penso che Romano abbia ragione, non è detto che serve la laurea, c'è un processo di democratizzazione, ma io spero che i partiti, qualsiasi partito che si presenta, abbia uno schelto di classe dirigente adeguata, che significa classe dirigente con esperienza. Perché se uno ha fatto l'amministratore e il sindaco ed è stato giudicato, perché l'ha fatto bene o l'ha fatto male, porta un'esperienza e un giudizio rispetto a quello che ha fatto. Guardate che se noi non recuperiamo, che anche per fare politica serve una competenza, ed essersi misurate per dimostrato di aver fatto bene, dopodiché l'ossatura di quella classe dirigente si aprirà a rinnovamento, si aprirà alla società civile, ma se non c'è quell'ossatura, lì non c'è la classe dirigente per governare un paese. Voglio solo dire un'altra domanda.